Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e benvenuti ad una nuova puntata della mia video formazione. In questo caso un video che viene registrato quando? Giovedì primo di ottobre. La data successiva al 30 settembre dovrebbe rappresentare lo spartiacque tra l'utilizzo di Google Meet che facevamo prima e l'utilizzo che ne possiamo fare ora. Questo video ha lo scopo di aiutare con un linguaggio chiaro e il più possibile diretto a sfatare un pochettino di falsimiti e di confusione e capire veramente cosa sia accaduto. Cominciamo con il dire che in questo momento Google tende ad incentivare gli istituti scolastici ad un passaggio a quella che in realtà si chiama, perché è una versione che ha un costo, la Google Enterprise for Education. Sì, ma rispetto alla Google Suite for Education, ad esempio siamo tornati per quanto concerne l'uso di Meet al limite massimo teorico di utenti simultanei pari a 100 che era stato portato prima del primo di ottobre al numero che molti di voi conoscono, cioè di 250 partecipanti. Fin da subito una premessa. Non occorre spingersi necessariamente a toccare questo limite massimo. Se io faccio un uso non corretto di un'applicazione per la didattica sincrona, e non parlo solo di Meet, tutte le webcam accese, microfoni accesi e così via, sto generando uno stress che in realtà rischia, soprattutto con connessioni ballerine, di portare naturalmente con sé qualche disagio di regola, e lo spiego in un video che trovate sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, nella didattica sincrona come metodologia il docente si vede, si sente, gli alunni partecipanti presenziano con il microfono spento la webcam spenta ed accendono i due dispositivi solo quando è necessario, e al limite ci vediamo in piccoli gruppi, su un piccolo numero di interlocutori ci andiamo a confrontare in audio video, ok? Dai, guardiamo un pochettino operativamente se c'è qualche funzione nuova o diversa. Clicco sul più, sono già entrato in Meet con un mio account Google Suite, lo ricordo, non si utilizza Meet con la Gmail, o quantomeno per Gmail c'è una versione di Meet per Gmail, che non è questa. Io clicco su continua, lo anticipo, lo vedete in altri miei videocorsi tematici, qua avrete errore fotocamera perché non potete vedere due Andrea, ok? Quindi è tutto corretto, io clicco partecipa. Abbiamo il riepilogo, quindi con l'URL, cioè l'indirizzo web di riferimento, che è esatto e ci conduce a questa sessione di Meet, chiudo con X. Allora, intanto il lucchettino che vedete qui accanto al mio volto è già stato da me trattato in un precedente videocorso. Quelli sono i controlli dell'organizzatore, ve li rimostro un secondo, tre interruttori, sposto ancora al mio volto, che permettono di parto dal basso, bloccare la chat, bloccare il tasto presenta ora da parte degli altri partecipanti, eccettuato il docente organizzatore, e l'interruttore accesso rapido che se spento fa sì che tutti i partecipanti al Meeting, anche se facenti parte della organizzazione, cioè con account scolastico, debbano richiedere l'invito a partecipare, cioè debbano essere autorizzati in buona sostanza, ammessi. I tre pallini che vediamo in basso a destra, cosa ci mostrano? Intanto che è ancora possibile registrare. Su questo tema si è letto e sentito forse un po' di tutto. Si può registrare, ma le registrazioni vengono conservate sul Drive di chi registra sino a un massimo di giorni 30. Lo stesso avviso lo avete incontrato voi colleghi ed amici che utilizzate Google Drive per quanto concerne la permanenza di files nel cestino di Drive. Quindi dopo 30 giorni, se noi non agiamo, tabula rasa, per cui in automatico il cestino viene svuotato. Poi abbiamo il modifica layout, di cui già ho parlato in un precedente videocorso, che consente cliccando su in griglia e spostando con il tasto sinistro premuto verso destra l'interruttore di non utilizzare più l'estensione non ufficiale Grid View e di avere una visualizzazione in griglia sino a un massimo di 49 partecipanti direttamente interna a Meet. Chiudo con X, ritorno sui tre pallini perché avrete anche notato l'attiva sfocatura sfondo, che ora non clicco perché non ha senso, perché la mia fotocamera, cioè la webcam in realtà sta già mostrando me, non può mostrarvi anche me dentro Meet, ma chi tra voi utilizza già o si è servito anche di altri applicativi avrà presente cosa sia la sfocatura sfondo. Molto utile, l'ho utilizzata ieri in un mio corso in di a di rivolta ai colleghi, sostanzialmente va a rendere sfumato lo sfondo. È la medesima funzione che abbiamo anche in un ottimo applicativo open source quale Jitsi, in un applicativo proprietario per le conference call o per le chiamate quale Skype. Per cui ecco, vedete riepilogando che al momento non ci sono campanelli di allarme, naturalmente quello che è fondamentale fare è fare di Meet un utilizzo pienamente consapevole. Ed ecco perché queste informazioni sono importanti anche per chiarire poi internamente all'istituto scolastico se sia ancora assolutamente opportuno utilizzare la Google Suite for Education così, se sia opportuno passare con il pagamento di un importo alla Google Suite Enterprise for Education, che è la versione sostanzialmente appena sopra, oppure se passare ad esempio ad un ambiente per la didattica sincrona interamente open source, motore BBB, quale Hub Digital è una piattaforma sviluppata da una fondazione toscana che si chiama Fondazione Franchi. Bene, le informazioni credo di avervele fornite come sempre cercando di utilizzare un linguaggio il più possibile, semplice e diretto. Vi ringrazio per l'affetto e la stima con cui mi seguite e vi do di già appuntamento al prossimo videocorso sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea. Un saluto ancora da Andrea Cartotto. Ciao!